Prima volta per voi alla Fiera di San Ciriaco? No, sono anni che vengo, quindi non si può mancare a questa fiera. Tante presenze nonostante il meteo avverso. L'edizione 2023 della Fiera di San Ciriaco è partita decisamente col piede giusto. Una fiumana di persone ha infatti invaso il Viale della Vittoria nel primo dei quattro giorni della popolare manifestazione anconetana che vedrà il suo epilogo nella giornata del 4 maggio in concomitanza con la festa patronale del capoluogo. Quest'anno si punta a migliorare le 120.000 presenze del 2022. Comprato già qualcosa? Sì, c'era poca gente perché il primo maggio invece tutti ho sentito la stessa idea. Andiamo che non c'è nessuno che ha il primo maggio, invece ha fatto il pienone. Da Osimo, prima volta che vengo. Le sue impressioni? È molto organizzata, molto partecipata, è una bellissima organizzazione. Al mercato non vado mai, adesso oggi è la fiera perché le figlie sono libere e siamo venuti. Soddisfatti i commercianti che, visto l'elevato numero di presenze, guardano i prossimi giorni con un giustificato ottimismo. È cominciata benissimo, l'affluenza c'è, quindi contro ogni previsione diciamo che abbiamo iniziato e abbiamo iniziato bene e speriamo che prosegua. Le vendite come sono partite? Bene, bene, no, non ce la vendiamo mai. Le vendite vanno a gonfia vele e siamo contenti perché la gente ne ha tanta.